Musica Bella a tutti ragazzi, qui Bombocluck Esatto, siamo sempre io e Bunny Esatto, qua con Black Ops, Call of Duty Con il quinto episodio Esatto, questa serie sta andando bene Ha un bel po' di views e un bel po' di mi piace Quindi continueremo E continuate anche voi a mettermi piace a questa serie Che ci piace anche a noi, quindi Vorremmo tanto continuarla Esatto Se non aveste visto la quarta missione, cioè la terza in verità Andate a rivederla Perché è stata una bella missione, ci siamo divertiti tanto Esatto, bella missione proprio Eravamo in Afghanistan Sì, e qua dovremmo essere in India da quello che abbiamo visto nel video precedente Esatto, siamo in India E niente, vabbè, cominciamo, ci vediamo lì alla storia Inizia Franklin, via Eccoci qua ragazzi Sembra nel 2025 Ah, in India, sì G-Soci Siamo paracadutati giù Non spariamo basta Sì, vecchio qua, mi sa che non solo spar... Vecchio, arriveranno tra qualche secondo, eh, tra... Vecchio ti direi di prendere su questo Io vorrei un macchinino di prima Possiamo... Sì, sì, esci, esci, esci Non c'è Bene Oh, se lo troviamo lo prendiamo, eh Nemici arriveranno... Nemici arriveranno... Arriveranno a secondi Nasconditi qua, metti di qua Metti di qua Metti di qua Metti di qua Ma che ne sto sparando con l'autore? Non è questo Metti di qua 9 8 7 6 Casano da difendere quei quattro punto c E' quanto a 2 1 Arrivano Fuori 1 Bella Qui praticamente abbiamo 9 minuti circa per difendere questi punti Ti dice di difendere questo, vecchio Questa missione, secondo me, è abbastanza difficile Per me è paura No, vecchio Arriva a tutti Da qua Che cazzo è che mi sto sparando Un tipo solo, hai visto? Ti stanno sparando tutti Ci saranno tutti con te Ci saranno tutti con te Ci saranno tutti Macchinino contro macchinino Granata Bella Strapposto Siamo un po' ridottimale Non so perché c'è riportato No, ha fatto io Eccolo lì, eccolo lì, finito puttana No, finito puttana Mira di mella Un sacro fatto fuori Si, ha detto questo un'uccisione Cazzo Cazzo Cazzo, cazzo, cazzo Miari Mi sono ancora morti Mi sono ancora morti Siete su per me C'è uno che sta sparando alla grata Sparando qua Armi poco sobria Un colpo però Armi poco sobria Mi dicono Direi che il colpo l'ho utilizzato benissimo Cazzo Sì, ma trent'anni per ricaricare ragazzi Bella Oh, oh Da qua Certo Costardo questo L'avevo visto un'arma però No, reflex No, guarda questo No, mi piace Quella, questa No, ce n'era un'altra Sì, ce n'era un'altra Però Qua sta Stora bella qua col cosmo Ragazzi, meno di tre minuti Siamo messi abbastanza bene però Dovevamo tenere gli occhi ben aperti Qua c'è un altro robottino Aia Sta salendo al punto B E ce n'è uno dietro No, è nostro Lo fa culo Spaventi mi fa prendere Oh, c'è il miaro qua Guarda, ce lo distrugge figlio Cosa fai figlio Morto Lo fa un culo bastardo Merdo Siamo abbastanza tranquilli Perché manca un minuto e trenta Proprio adesso Oh, perché non mi spara? Ah Quei colpi sono infiniti vecchio Sì Oh, oh Allora compare col bazooka Che bastardo Vecchio Sì, puttana Condividi vecchio Magari lì si ricarica Non lo so Però ti stanno sparando Mi sa Eccolo lì Bravo Banni Mancano cinquanta secondi Non arrivano da qua Qui proprio in avanti Ti stanno sparando Ecco lì Se ne ha uno Che vuole salire Il punto C Il punto C che è Arrivato a un quarto Dai ragazzi Che mancano solo trenta secondi Il punto B È andato stra in basso Vecchio Manca mano Dobbiamo uccidere tutti E basta ragazzi Mancavo un secondo ragazzi Finito adesso Volevo soluciderli tutti Adesso ragazzi I secondi come abbiamo visto Sono finiti I secondi dove dovevamo difendere Maggiormente adesso Dobbiamo solucidere Gli ultimi rimasti Che non credo Siano tanti Ce n'è uno lì Ce n'è uno Molto lontano dal Dai nostri punti di difesa Provo scavalcare 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 E' finita la missione Ragazzi Finalmente Una missione abbastanza C'è difficile da capire All'inizio Però comunque Non capita proprio Neanche adesso Non capiamo Però Ce l'abbiamo fatta ragazzi E' finita la missione Mission success Success Vecchio Un po' di inglese Success E confermiamo Siamo molto felici Di vedere questa scritta Perché non vedevamo proprio l'ora E' tipo Un'ora che stiamo registrando Per capire un po' Ecco qua l'animazione finale Come al solito E niente Che dire E' stata una bella missione Torniamo a casa Contenti E' stata una bella missione Per quanto riguarda la location E un po' Le armi a disposizione Sì Molto meno per Perché non abbiamo capito Un cazzo proprio Esatto Però vabbè Dai Ci sta Le missioni Ci siamo riusciti Quindi Ci siamo riusciti Quindi ce la becchiamo Ragazzi Infatti Non so che anche dire Vabbè Seguiamo quel pezzo qua C'è un ultimo pezzo Ah no Niente Ragazzi Abbiamo vinto L'India Vai Procedi E ora Procediamo Ok E nel prossimo Siamo in Nicaragua E confermiamo di nuovo Siamo in Nicaragua Nella prossima missione Ragazzi Però torniamo indietro Al 1986 Quindi ragazzi Non perdetevela E niente Ragazzi Vi aspettiamo Like Condividete Commentate Con i vostri pareri I vostri consigli E mettetevi La nostra pagina Facebook E come al solito Il link In descrizione E niente Che dire ragazzi Bomboclat